Stefania Bergia, avvocato dell'anno EXE con il settore marchi e brevetti, qual è la sua impressione su questa segata? Senz'altro una novità, il mio maestro direbbe ma che strana novità, però siamo qua, direi che è un'esperienza interessante e comunque per un avvocato che fa questa professione a tanti anni può anche essere gratificante perché sembra che l'abbiano detto poi i clienti, è giusto questo? Non abbiamo ben capito ma alla fine c'è parso che arrivi di lì l'input, giusto? Allora noi non possiamo che essere contenti. Una domanda invece più del settore, come vede lei il settore marchi e brevetti, lei che si occupa a seguito delle cause importanti come quella Samsung e Apple, qual è lo sviluppo di questo settore per un avvocato? Dicono che quando c'è crisi normalmente l'IP riesca a reggere ed emergere, penso che sia vero perché comunque c'è la tendenza a cercare di proteggere quello che si ha e a cercare di proteggere anche delle nuove idee, secondo me è sicuramente un settore in espansione e noi tutti ci crediamo. Grazie. Grazie. Grazie.